Tutto quello che c'è da sapere sullo speciale di Canale 5 dedicato a Padre Pio è in onda stasera martedì 21 giugno 2022 Stasera, martedì 21 giugno 2022, andrà in onda su Canale 5 il documentario Viaggio nella grande bellezza, il mistero di Padre Pio, scopriamo quando inizia, l'orario, quante puntate sono previste, gli ospiti e dove vederlo in tv Leggi anche, Padre Pio riassunto storia, vero nome e cognome, età alla morte, come è morto, stimmate, miracoli, dove si trova la salma oggi, San Giovanni Rotondo, foto e il mistero di Padre Pio documentario, dove vederlo il tv? Il programma Viaggio nella grande bellezza dedica la puntata di stasera, martedì 21 giugno, a Dalla storia di Padre Pio La puntata speciale presentata da Cesare Boccia andrà in onda su Canale 5 Padre Pio documentario Canale 5, a che ora inizia? Orario ma quale è l'orario di inizio del documentario sulla storia di Padre Pio in onda stasera su Canale 5? L'appuntamento è in prima serata a partire dalle 21 e 20, subito dopo Paperissima Sprint Viaggio nella grande bellezza, il mistero di Padre Pio, come funziona? La puntata speciale di stasera del programma Viaggio nella grande bellezza ha come obiettivo di riproporre i vari passaggi dell'incredibile storia di Padre Pio Per farlo verranno mandate in onda diverse testimonianze e ricostruzioni della vita del santo Il presentatore Cesare Bocci, inoltre, nel corso della puntata, incontra e narra storie dei devoti la cui vita è radicalmente cambiata grazie all'incontro con il santo di Pietrelcina Il programma, volutamente registrato, non a studio. Padre Pio stasera su Canale 5, chi sono gli ospiti? Tra gli ospiti della puntata speciale molti volti noti e meno noti racconteranno la loro testimonianza e i loro ricordi in merito alla figura di Padre Pio Tra loro, Lino Banfi Monsignor Angelo Comastri Padre Leonardo Marcucci Padre Luciano Lotti Padre Vincenzo Taraborelli Il medico Giovanni Scarali Giornalisti Andrea Tornielli, Franco Bucarelli e Stefano Campanella Quante puntate sono? Per il documentario di Padre Pio, in onda stasera su Canale 5 è prevista un'unica puntata Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news in merito al documentario Viaggio nella grande bellezza, il mistero di Padre Pio, quando inizia stasera su Canale 5, l'orario, gli ospiti, dove vederlo in tv, quante puntate sono previste?